Sì, abbiamo un ingresso di lavoratori da fuori provincia e da fuori regione in aumento, abbiamo la nostra manodopera che è ferma, è in diminuzione, quindi non sta lavorando, al momento sono disoccupati. I dati sono rilevanti, abbiamo i dati della Cassedile, sono recenti, abbiamo un aumento da fuori regione di più 327 lavoratori, mentre c'è una diminuzione di quelli residenti in provincia di 244 lavoratori. Sono diminuite anche le imprese attive, ci sono nuove aperture ma non riescono a compensare quelle che hanno chiuso, c'è una chiusura abbastanza consistente di imprese del nostro territorio. Succede perché purtroppo la scelta degli appalti e dei subappalti è data ai committenti e quindi ci sono imprese che utilizzano subappaltatori che comunque vengono da fuori, che portano la loro manodopera, ma resta ferma la nostra manodopera. Quindi vorrei fare un invito ai committenti e anche alle imprese locali per ricollocare i nostri lavoratori italiani e straniere ormai stanziali danni sul nostro territorio perché sono rimasti senza lavoro. Siamo nell'imminenza di riprendere la ricostruzione e non vorremmo lasciare a casa tutto il nostro personale. Sì, ci sono imprese irregolari che purtroppo mettono un numero di ore lavorate nettamente inferiore, le altre ore vengono camuffate in ferie, permessi, cassa di integrazione e quant'altro e quindi c'è anche un abbassamento delle retribuzioni dei lavoratori. Inoltre c'è un demanzionamento perché ci sono troppi manovali e pochi operai specializzati.